Ciao a tutti ragazzi sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Forbidden Lens, l'ultimo gioco di ruolo che ci ha mandato a casa la Fria Ligan ed è un fantasy old school che ci rimanda veramente ai tempi della primissima edizione, esagerando dell'Advanced, di Dungeons & Dragons. Quindi ci manda indietro di 20-30 anni abbondanti. Ma ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Forbidden Lens, edizione della Fria Ligan, per noi che giriamo e bazzichiamo intorno ai giochi di ruolo, è un gioco che ha vinto gli Ennis del 2019 come miglior gioco di ruolo. Questa è una ristampa, non è una nuova edizione, perché hanno fatto una ristampa se non erro a cavallo fra luglio e agosto, per il fatto che ne sono state vendute tantissime copie. E nella versione che vedete qui davanti, questa è la versione base, che poi vi faccio vedere il contenuto, all'interno ci sono manuale del giocatore, manuale del Dungeon Master e poi mi hanno mandato anche i dadi. Come in tutti i giochi della Fria Ligan, vi ricordate, vi ho fatto vedere anche Alien, potete comprare della roba personalizzata, lo schermo del Master e cose del genere, e insieme ci sono anche i dadi. Il sistema delle regole, ora poi vi faccio vedere un pochino da vicino il manuale, il sistema delle regole è il solito della Fria Ligan, che secondo me è una figata, perché a parte come il Savage Worlds essere un regolamento molto semplice e veloce, è anche sempre lo stesso, è lo stesso di Alien, è lo stesso di Mutant Year Zero, è lo stesso di Coriolis, o Coriolis che dici voglia, Coriolis. È lo stesso regolamento che usa sempre la Fria Liga nel 90% dei loro giochi, ogni tanto qualcosina di nuovo l'hanno rifatto, eh. Ad esempio, ci sono altri titoli, sempre loro, che hanno un altro tipo di regolamento, però questo è il migliore perché alla fin fine è quello più adattabile, è un regolamento universale che ci può adattare, o un'ambientazione fantasy, prettamente old school come Forbidden Lands, o un'ambientazione spaziale tipo Alien, Mad Max e cose varie. Quindi è un regolamento universale che si adatta a tutto. E le regole, ragazzi, sono sempre le stesse fondamentalmente, perché le regole sono quelle che abbiamo visto in Alien, e vi rimando, anche se non l'avete vista, alla piccola campagna che in tre episodi abbiamo giocato di Alien con il gruppo mio di Discord, di Tabletop Simulator, perché le regole ci dicono, c'è un'abilità e c'è una caratteristica. Tira i dadi sommati, abilità e caratteristica, e non c'è mai, a parte nell'1% dei casi del Dungeon Master, una soglia di difficoltà da passare. Esempio, arma da corpo a corpo, ho abilità 3 dadi. Su cosa va? Su che caratteristica? Agilità, altri 3 dadi, 3 più 3 fa 6, tira i dadi, e basta anche un 6 per avere un successo. In questo gioco i successi sono il 6 sul dado da 6, quindi vai a vedere se hai fatto il successo, ho colpito, andiamo a vedere il danno che fa l'arma, perché il danno, come in Alien, è sempre quello dell'arma, quindi se un'arma fa 3 danni, ne fa 3, non è che, sì, magari se è rotta, scheggiata, ne fa meno, comunque un'arma normale fa sempre quei danni. Quindi tutt'al più sarà l'altro giocatore con un valore di armatura, valore di armatura 4, tira i dadi, e per ogni 6 che viene fuori leva un danno dell'arma. Quindi come vedete comunque è un regolamento facile ed è lo stesso di Alien. Ed è anche molto bello, perché fondamentalmente, sì, ci può essere anche la fortuna di fare più danno con una spada, però per quanto possa essere forte una persona, il danno dell'arma è quella. Tutta al più, se invece di un 6 te ne escono due o tre sul tiro, sono incrementi che ti potrebbero far fare un colpo mirato o più danno con l'arma. Ma l'arma fa sempre il solito danno. E il regolamento, ragazzi, praticamente tutto qui, ha come Alien un sistema di iniziativa che va sulle carte, quindi si prendono queste carte, si girano, c'è la carta 1, io c'ho la carta 5 e quello c'è la carta 3. Quindi io muovo per primo, lui muove per ultimo e quello col 3 muove per il secondo. È un sistema veramente facilissimo, che si adatta a tutto e la cosa bella è che forse in Alien era leggermente più giustificata e accettabile, mettiamola così, perché ti trovi a fronteggiare gli xenomorfi o comunque armi da fuoco, uno xenomorfo che ti arriva in corpo a corpo e un po' e ti ra per i danni. È bene che tu schianti subito. In un fantasy c'è da aver paura perché anche laddove un guerriero grosso come Conan il Barbaro, un barbaro, va a combattere 3 goblin, quei 3 goblin con un colpo che ti entra di quello con la lancia, di quello con l'accetta da tiro e ti fanno 4 danni. Magari sono abbastanza per buttarti giù, perché i punti feriti in questo gioco sono le caratteristiche. Se un danno arriva a levarti, che ne so, forza, hai forza 5 e ti fanno 5 o 6 danni e la forza si riduce a 0 il tuo personaggio finisce per terra ed è praticamente nello stato pre-morte. Quindi basterebbe giusto un colpo per finirlo. E quindi è molto cattivo, con Dungeons & Dragons della prima edizione c'è solo l'idea, ma in D&D prima edizione il guerriero che combatteva i goblin e gli orchitti al primo livello prima di morire gli volevano 16 colpi, qui no, qui ne basta anche uno messo bene per andare per terra. E si che è un gioco che premia più che il combattimento, non si fanno punti esperienza combattendo i mostri, ma si fanno per l'esplorazione. Questo è un gioco che ora vi faccio vedere da vicino una figata che ha questo gioco qui, che l'ho vista anche in Gloomhaven come gioco da tavolo, che è molto molto carina, che la mappa è open world come un videogioco, ma è anche open source. Quindi i posti che andrete a trovare sono quelli d'ambientazione. Se ci sono le caverne del destino, dico un nome a caso, o le montagne urlanti, quelle ci sono nel gioco, però deciderete voi dove sono e ci sono degli stick da attaccare sulla mappa, così che l'esperienza di gioco sia personalizzata a quel gruppo lì e magari fra un'avventura le cose potrebbero anche cambiare. Che è una figata assurda. L'ambientazione è abbastanza classica, c'è delle terre che sono appunto le Forbidden Lands o anche le Shadowlands che sono praticamente divise dal mondo dove sono approdati gli umani. Gli umani sono arrivati da oltre lì in mare, con le navi si sono insediati e gli nani e elfi che ci avevano come schiavi gli orchi erano lì che li osservavano già da centinaia di anni, le prime tribù umane. fecero questo grosso vallo per chiudere le terre fuori degli umani dalle loro e praticamente si è alzata questa nube assassina che contornava queste terre queste Forbidden Lands dove nessuno poteva entrare perché morivi tipo ti consumava come abbiamo visto un po' in Tainted Grail. Dopo decenni questa scusate centinaia di anni questa nube è andata via non si sa come ed è anche il gusto del gioco scoprirlo e quindi è possibile passare il vallo comunque molto difeso dai nani e da una delegazione degli elfi entrare nelle Forbidden Lands quindi come ambientazione ragazzi è molto classica non si vanno a ricercare cose 3 miliardi di nomi 3 miliardi di posti 7 miliardi di razze le razze giocabili sono Nano Halfling potete fare anche una specie di lupo Mannaro umani le razze sono quelle lì alla fin fine il Goblin che ci vede bene di notte è un tributo e un omaggio neanche tanto nascosto a D&D prima edizione e qua giù vedete qua dentro che vi faccio vedere da vicino i dadi sono come vi ho detto i comuni dadi da 6 più qualche altro dadino di un diverso taglio che servono per altre cose però vedete se vi posso dare un consiglio d'amico questa scatolina a parte bellina ordinate la perché sennò vi serviranno dei dadi da 6 di diverso colore perché quando si va a fare delle prove come in Alien si esce uno che vedete c'è il teschio nel ritiro di una prova non è una prova normale ma quando provate a spingere il tiro perché non vi è piaciuto non l'avete colpito e provate a rifarlo se escano degli 1 succede qualcosa che ne so i dadi bianchi si mettono per le caratteristiche i dadi rossi si mettono per l'abilità i dadi neri si mettono per l'equipaggiamento se quindi durante una prova che rilanciate e spingete un tiro nel classico regolamento della Fria Ligan esce un 1 su un bianco è un danno alla caratteristica se esce un 1 su un rosso potrebbe essere un danno all'abilità cioè un peggioramento dell'abilità se esce un 1 sul dado nero vi si potrebbe rompere l'equipaggiamento ed è anche molto bellina come idea e quindi se volete spendere leggermente di più prendete anche il dice set che è veramente veramente molto carino la scatola del gioco che tra l'altro il disegno è veramente molto carino e ricordano un po' i signori dei draghi se vogliamo di Dragonlance sembra un pochino il vecchio imperatore e vedete insomma dimensioni con la mano è abbastanza grande ed è quella classica scatola che come vi dicevo poc'anzi appunto rimanda a Dungeons & Dragons in più c'è questo manualetto all'interno leggende ed avventure che vi servono anche per ambientare le prime storielle che potreste creare un po' un manualetto che vi dà la mano e appunto è stato fatto come se fosse quasi fotocopiato lo vedete perché al tempo ragazzi era molto andare in copisteria in cartolleria non vi dico fotocopiarsi manuali però magari roba nuova che si trovava o cose del genere o proprio gli stessi regolamenti erano fatti così cioè non c'era ancora il libro rilegate e tutto quanto e quindi anche questo come vedete praticamente con tutte quante le tabelle le situazioni che potete trovare è un omaggio veramente disumano e anche lo stile dei disegni che vengono usati per Forbidden Lens in bianco e nero rimandano a quell'epoca qui ci sono gli sticker che vi dicevo prima sono fortezze dungeon tutte cose che potete trovare o parti della mappa già nominate perché sono parti della mappa che esistono e questi sticker voi li potete staccare e attaccare sulla mappa quindi se voi volete far trovare un dungeon in una palude ma sulla mappa non c'è prendete e ce l'attaccate se nell'avventura dopo il dungeon lo volete far trovare in cima alla montagna lo staccate e lo attaccate sulla montagna poi qui abbiamo la mappa che è una cosa importantissima del gioco e c'è ovviamente la leggenda accanto per farvi vedere i tipi di terreno è una cosa importantissima perché vi ho detto Forbidden Lens premia l'esplorazione la cosa più importante vedete ci sono degli esagoni da un esagono a un altro ovviamente ci sono regole per spostarsi col cibo e tutto quanto e potete andare a mettere gli sticker che vi ho fatto dire prima quindi io il dungeon lo potete trovare qui nell'avventura dopo perché no il dungeon potrebbe essere anche sott'acqua quindi mi posso inventare quello che voglio in più con gli sticker delle fortezze in questo gioco nel metagame fra una sessione e l'altra potete avere la vostra fortezza personale quindi vi potete costruire la vostra fortezza più o meno ovunque dopo averla liberata dai mostri ed è una parte di metagame molto 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 interessante e poi all'interno della scatola ci sono i due manuali marrone rossino insomma e verde sotto che appunto rimandano da morire vedete poi belli anche come l'hanno fatti nello stile questo vi sembra un po' tipo la storia infinita e sono i simboli sopra come vedete delle divinità principali del gioco e sono veramente molto belli ricordano i libri di un tempo questo è il manuale del giocatore con la mappa all'interno vedete nella mappa vi dà i nomi delle regioni ma mai vi dice dove un dungeon è una cosa del genere perché quelle sono tutte cose che dovete andare a mettere voi e è tutto quanto in bianco e nero ovviamente come il manuale di una volta old school non ci sono colori e guardate anche lo stile dei disegni è quello proprio del dungeon and dragons dell'epoca o anche la scheda come vedete rimanda moltissimo ai vecchi giochi di ruolo ma sembra anche un po' quella dei libri game di lupo solitario veramente molto bellina sembra quasi fatta tutta a mano disegnata da qualcuno a mano e lo stile ragazzi è quello lì per il manuale del giocatore e il manuale dall'altra parte del dungeon master che come in deadlands come vedete in deadlands ragazzi questo qui fatelo leggere solo al dungeon master perché vi svela tutti i segreti dell'ambientazione ma non è che vi dà una fonte di ispirazione per creare storie vi dice dalla A alla Z anche i mostri che andate a trovare che poi vedete nelle classiche tabelle della free a league come alien il mostro vi attacca con il valore di attacco di abilità che c'è tutto quanto di caratteristica tira 4-5 dadi se vi colpisce dovete andare a tirare un di 6 per vedere che tipo di attacco vi fa quindi è proprio uguale 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 pari stesso regolamento di alien se avete già giocato alien o viceversa questo manuale qui praticamente ve lo leggerete io penso in un pomeriggio e sarete pronti per giocare ragazzi in conclusione è un gioco per tutti i vecchiacci schifosi come me e gli amanti del gioco di ruolo veramente old school è un toccasana è una figata come regolamento è quello della Freya Ligan quindi provate un gioco fatti tutti vi basta alla fine i manuali della Freya Ligan sono ambientazioni vi rileggete l'ambientazione e siete pronti a giocare tanto le regole sono sempre le stesse quindi è un manuale veramente manuali fatti bene la cura per il dettaglio al solito maniacale ci credo che abbia vinto un premio come gioco dell'anno penso in Svezia nel 2019 e quindi se l'è meritato assolutamente ragazzi vi lascio link in descrizione dove ordinarlo l'unica cosa che questo gioco è al momento solo in inglese quindi lo dovete ordinare direttamente dal sito della Freya Ligan che vi lascio in descrizione che ancora una volta ringrazio di cuore ormai è più di un anno che ci collaboriamo Alien lo sta traducendo tutto quanto invece la Weird Edizione dovrebbe uscire a fine anno quindi Alien ce l'avrete in italiano questo e altri giochi tipo Mutant quello invece per ora ma sono convinto che ormai ci abbia la collaborazione la Weird li prenderà tutti ma per ora dobbiamo giocarceli solo in inglese però vabbè un inglese di quello proprio scolastico ragazzi l'hanno fatta anche apposta anche perché si vende molto più facilmente quindi ragazzi io assolutamente un voto positivo se devo trovarci forse qualcosa appena appena negativo è che il regolamento è sempre lo stesso però per me è una cosa positiva per qualcun altro magari potrebbe dare fastidio magari si aspettavano qualche regoluccia in più sì c'è da un fantasy a un gioco spaziale sci-fi horror cambia qualcosa però il regolamento di base è sempre lo stesso e secondo me trovato un regolamento che funziona è inutile anche andarla ad arricchire o appesantire ragazzi quindi fatemi sapere cosa ne pensate e niente in descrizione trovate direttamente il link dove acquistarlo direttamente dal sito della Freeligan vi avrei lasciato altri indirizzi altri link ma si ordina in inglese tanto vale ordinarlo da loro ciao ragazzi alla prossima ciao